Incalzato dalla crisi economica, il mondo del lavoro è da qualche anno in trasformazione, verso una precarietà dilagante e una progressiva perdita di diritti e speranze. Tante riflessioni e testimonianze in merito si sono intrecciate all'incontro Roma-Milano, le trasformazioni del lavoro nelle metropoli tenutosi presto portafuturo. I lavoratori per così dire atipici sono ormai la maggioranza rispetto al lavoratore salariato. Come garantire pari diritti e far sì che la precarietà sia sopportabile, quantomeno se non sostenibile? Intanto c'è una contraddizione dei termini, non sono più atipici perché sono la maggioranza e quindi c'è un tema gigantesco perché la nostra società, il nostro mercato del lavoro è pensato per una forma di lavoro, su una forma di lavoro che non rappresenta più la maggioranza delle persone, soprattutto delle persone più giovani. La soluzione è cercabile anche in una via giuridica oppure c'è un eccesso di legislazione in materia? No, sicuramente c'è un eccesso di legislazione in materia, c'è un eccesso di forme contrattuali, siamo arrivati a 46, quindi fino al contratto giornaliero. Quindi è evidente che c'è un problema inverso, c'è di semplificazione, di portare a 4-5 le forme contrattuali, di rendere più fluido anche il percorso dal lavoro alla formazione, dalla formazione al lavoro. In un momento in cui i cosiddetti lavoratori atipici sono la maggioranza e il lavoro salariato sempre meno la norma, è fondamentale garantire ai lavoratori autonomi parità e diritti. Nel settore terziario avanzato l'88% dei contratti è precario. È necessario uscire da questa situazione per dare speranza al Paese. È impossibile uscirne, credo, difficilmente con delle operazioni di carattere normativo, almeno quelle che finora sono state messe in atto non hanno funzionato. Si parla adesso di questo contratto unico, però io ritengo che il punto fondamentale per uscire da questa situazione sia prima di tutto l'auto-organizzazione dei lavoratori. Perché anche qualora poi intervenissero delle forme, delle regolamentazioni o delle iniziative normative positive, queste si regolano soltanto e possono funzionare soltanto se c'è un controllo da parte degli stessi lavoratori. Credo il tema oggi posto in discussione dalla provincia sia molto interessante, su cui bisogna continuare a riflettere per costruire un nuovo modello di welfare del nostro Paese, dei servizi e questo bisogna farlo anche dentro la crisi, perché non possiamo certamente aspettare che la crisi finisca e poi affrontiamo questo tema. E da allora bisogna rimettere al centro questo tema delle disuguaglianze, delle varie opportunità. Non esiste nulla che offre diritti e che sostiene queste scelte. Chi sceglie di fare il lavoratore autonomo all'inizio è pieno di entusiasmo, ci crede e non chiede niente a nessuno. E spesso se va tutto bene per molti anni non chiede niente a nessuno. Fino alla prima volta che si rompe il braccio, finché non gli nasce un figlio o finché non ha qualche difficoltà.